mo ciao bella gente cosa pensate che sia la vita da full timer pensate che sia qualcosa di veramente trascendentale pensate che a fare la vita da full timer vi si aprono porte immense mini a mimi sul tavolo la vedete la vedete non zoom peccato è lì sul tavolo che sbatte la coda osservate bene in questo punto qua vedete è una vita normale una vita a volte di sacrifici tante volte di libertà tante volte anche di noia quando piove quando non si può uscire più di tanto dal camper non pensate alla vita da full timer con una libertà totale è qualcosa di fattibile a tutti come ho detto un miliardo di volte però c'era dire una cosa se voi riuscite a trovare un equilibrio tra una piccola entrata il condividere tutto magari con una persona che amate come faccio io anche se siamo lontani e il poter viaggiare in economia totale perché ragazzi qua non si tratta di spendere espandere no mangi vivi viaggi ti lavi fra le cose minime le cose minime allora potreste aver trovato qualcosa che non è nirvana però è qualcosa che potrebbe soddisfarvi tanto ma sostanzialmente la vita in camper è qualcosa di non italiano non europeo qualcosa che non arriva se vogliamo dalle nostre culture è qualcosa che si può fare provare qualcuno dirà lettera testamento no è semplicemente un uno stile di maniera con uno stile di vita un'esperienza può darsi alcuni mi hanno detto a non farei sul tema fino a 70 anni e gli ho risposto ma tutto possibile nella vita io credo che fare full timer oggi in italia possa darti per me con 44 anni quella sensazione di spensieratezza di libertà che magari avevate 25 anni fa quando avevate fatto 18 anni da poco e eravate immersi di amici di amiche di donne di diamanti quello che volete io un amante non ce l'ho perché amo la mia dolce metà non cerco altro ho avuto un po di donne nella vita ma non me ne frega niente sono arrivato ad un punto che i sentimenti contano sopra ogni altra cosa e qui mi fermo buonanotte